Una boccata d'ossigeno per i giocatori e lo staff dell'Aquila Calcio arriva dall'Associazione Nazionale Costruttori come entità e anche da imprenditori privati che si sono impegnati per dare un contributo e permettere alla squadra di finire dignitosamente il campionato. Si pagheranno alla squadra e staff un paio di mensilità per cercare di dare il respiro a delle persone che sul campo hanno onorato al meglio la maglia della città, nonostante una società assente. Per uno del vero era presente alla conferenza anche se non al tavolo il solo socio Fabrizio Rossi che è stato sempre comunque in prima linea per cercare di sostenere il suo dolizio nonostante la sua quota sia minima per quel che concerne la prima squadra. Un riconoscimento voluto questo dall'assessore Piccinini che in contemporanea sta trattando con due gruppi imprenditoriali per dare all'Aquila Calcio una nuova società, uno locale e uno di fuori, per ora nulla in più è dato sapere. So che il lancio personalmente come ente ha dato un contributo e altri imprenditori si stanno muovendo in questa direzione. Va detto parimenti che la prossima settimana io ho dei contatti per quanto riguarda la possibilità di una cessione della società. Mi auguro veramente che Chiodi e Soci possano essere collaborativi almeno in questo nel mostrare la massima trasparenza. Senza utensi a casa intanto e senza stipendi questo per noi è un segno di riconoscimento importante che ci permetterà di avere un po' più di serenità. Il mister ha ringraziato a nome di tutte l'ancio e l'assessore per l'impegno che non era assolutamente un obbligo e ha citato anche il caso dell'Arezzo dove sono stati raccolti oltre 300.000 euro. Qui all'Aquila a parte il buon cuore di quei tifosi che pagheranno anche la trasferta a San Marino un discorso del genere oggi con tutte le frizioni che ci sono tra tifoseria e società non è stato possibile e di fronte ad una tifoseria ormai esausta e deluse allo stremo come allo stremo del resto sono i giocatori e il mister si spera di raggiungere un risultato concreto a livello di trattative per non dover staccare la spina. Il comune si muove e l'Aquila, ha ribadito il mister, vuole i play-off che sono un segno importante per noi anche se non significheranno nulla dal punto di vista di eventuali promozioni. Al di là dell'aiuto che sarà comunque sia ben accetto è un segnale concreto da parte della città, da parte dell'associazione dei costruttori che insomma ha il suo valore, la sua forza, la sua potenzialità, dell'assessore Piccinini che ha fatto da mediatore in maniera molto positiva e promotore di un'iniziativa che non era dovuta materialmente a nessuno e forse sarà il primo concreto aiuto che riceviamo in questo contesto.